Mi fai a favore? Sì, di nuovo. Sì, io quest'anno abbiamo deciso di fare il Quizzone in diretta, però con due ascoltatori in studio. Cioè il gioco? Il gioco, il Quizzone. Ho bisogno che mi devi fare una promo. Cioè, cosa faccio? Tipo quello che ho inchianato. Ah, vieni a giocare nello Zona, roba così. Sì, no, tipo, eh, se vuoi partecipare al Quizzone, prenota, ti manda una mail a jiba at 105.net. Eh, prenotati subito, perché se no non lo fai in tempo, morirà. Esatto, così. Poi puoi venire in diretta, tu e un'altra persona. Ma tutti i giorni vengono in diretta? Tutti i giorni vengono in diretta due persone, partecipano al Quizzone in diretta. Ah, ok. Però spese loro, non vincono un cazzo. Sono ospiti qua, comunque. Sì, vengono qua, partecipano al Quizzone. Poi c'è la roba della televisione, quindi è anche il caso di questa cosa. Ok, me lo fai? Facciamola, dai. Vado? Vai. Vieni a partecipare al nuovo gioco dello Zona, tutti i giorni in diretta con noi. Sì, il Quizzone. Prenotati. Scrivendo a jiba.105.net oppure www.105.net. E ricordati che prima di tutto ci sei tu. Che cazzo c'entra? Eh, ci sei tu, fa scena, fa come al sabato grande festa. Non sapisci niente a queste cose. Che cazzo 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 cazzo.